Ciao a tutti ragazzi, sono sempre io, Paolo Spal07, e anche oggi parliamo di Spal. Sigla! Bologna Spal 2 a 1. Per quanto mi duole dirlo, così non va per niente bene. Non va bene perché non tanto per il risultato, che comunque secondo me è abbastanza bugiardo, ma soprattutto per l'atteggiamento. Partiamo dagli antipodi, partiamo proprio dall'inizio della partita. La Spal non è partita così male nei primi dieci minuti in realtà, anzi il primo tempo in generale non è stato neanche tanto male, soprattutto nel piano della grinta e della costruzione del gioco qualcosa abbiamo comunque prodotto. Il Bologna si è fatto vedere qualche volta, qualche volta è pericoloso, tant'è che è passato anche in vantaggio dopo dieci minuti, dopo quindici, venti minuti con il gol di Poli, dopo la prima verazione pericolosa diciamo su sponda di Palaccio. È stato un bel gol, anche se la difesa della Spal non ha preso molto bene le contromisure, ma comunque alla fine ci può stare. E' un po' qui che sono cominciati i problemi, se vogliamo. La Spal non ha reagito, non ha reagito nel modo in cui mi aspettavo, perché comunque non è riuscita a prendere in mano le redini del gioco, fino praticamente al 45esimo quando c'è stato quell'episodio contestato sul calcio di rigore che non è andato, poi sono andato anche al VAR a rivederlo. Live sembrava esserci, ma comunque va da sé che se l'arbitro è andato a rivederlo al VAR con diverse inquadrature più gli arbitri e non l'ha dato, forse motivo c'è, probabilmente perché non c'era. O comunque l'ha valutato non rigore. Ma al di là di questo non mi sento neanche di aggrapparmi a questi episodi qua per quello che è successo nel secondo tempo, ovvero che la Spal è rientrata in campo completamente scarica, completamente senza iniziative, completamente senza grinta. Siamo entrati in campo, dopo 4 minuti autogol di Salamon ed è stata la stessa azione, lo stesso errore che abbiamo fatto contro il Napoli, ovvero da un'azione d'attacco nostra abbiamo perso palla e non siamo riusciti a recuperare, Don Zassi ha fatto praticamente tutto il campo, poi la palla è stata messa in mezzo, sfortunata di vestire un autogol, con Schiattarella, Schiattarella di Comora, dico tutto il centrocampo della Spal non è riuscito ad arretrare proprio fisicamente, non sono riusciti a prenderlo. Merito anche di Don Zassi che è stato velocissimo, merito del Bologna che ha fatto un'azione molto rapida, però la Spal non ha preso proprio le contromisure qua e da quel momento in poi la Spal non ha più fatto proprio niente. Non c'è stata riazione, non c'è stato gioco, solo palle confusionarie, al limite dell'area nessun tipo di costruzione di gioco, fino al poi gol di Antenucci a giro, bellissimo peraltro, che ha un pochino salvato la faccia dal punto di vista del risultato che secondo me comunque era bugiardo perché Bologna poteva tranquillamente fare altri gol durante questo momento di buio totale della Spal. E questo mi preoccupa, io comincio un pochino a preoccuparmi non perché la squadra non ci sia, perché secondo me la squadra i valori ce li ha, perché è una buona squadra, ma perché non li sta mettendo in pratica, perché si fa proprio fatica là davanti dalla costruzione del gioco, sono deluso da Borriello perché non sta girando, a parte che rientrava anche da un acciacco, quindi non l'ho colpevolizzato per questa partita in particolare. A centrocampo facciamo fatica perché non c'è il collante, la difesa non riesce a far filtro il centrocampo, quindi proprio la difesa si trova sguarnita e se non fosse per Gomis poi sarebbe anche peggio, che Gomis è stato uno dei migliori in campo secondo me. Non mi è piaciuto Costa, era decisamente poco reattivo Costa, non mi è piaciuto generalmente tutta la parte sinistra della Spal, parlando proprio di campo, di fascia campo. Felipe che si fa saltare in maniera anche abbastanza banale se vogliamo, non lo so. Io sono comunque preoccupato fino a un certo punto perché comunque il campionato è ancora molto lungo, però adesso arriva il momento clou perché adesso arriva il Sassuolo, poi si va a Torino con la Juventus e lì i punti sarà quasi impossibile farli e lo sappiamo già e poi c'è il Genoa, quindi due su tre sono scontri salvezza e qui ci sarà veramente da metterci la grinta perché comunque la Spal non è riuscita neanche a compensare quello che gli manca, i propri limiti, non è riuscita a compensarli con la grinta e con la corsa perché in un certo momento correva molto di più il Bologna ed è qui che adesso bisogna mettere in pratica queste cose qua perché il momento è adesso di far punti, dobbiamo cominciare a fare i punti adesso perché se noi adesso non vinciamo col Sassuolo si fa un punto o due in otto partite che è pochissimo e quindi diciamo che è decisamente un momento no per adesso, ci vuole una scossa, ci vuole qualcuno che si inventi qualcosa anche proprio dal punto di vista della giocata, siamo prevedibili, siamo lenti, quindi ci vuole una scossa, non c'è niente da fare, purtroppo il momento è questo ed è proprio dalla partita col Sassuolo secondo me che si può dare la svolta, che si può cominciare a inventare qualcosa e si deve cominciare a far punti per ricominciare a sperare la salvezza, che si può ancora fare perché è ancora molto lunga, ma il momento della scossa ragazzi è adesso o mai più. Bene ragazzi se vi è piaciuto il video mettete mi piace e condividete dove volete, io vi ringrazio come al solito dei commenti che mi lasciate, scrivetemi nei commenti cosa ne pensate del momento della SPAL, di Bologna SPAL, di Sassuolo SPAL, scrivetemi quello che volete, vi lascio in descrizione il link di una mia intervista che mi ha fatto al Dallara all'uscita dallo stadio di un giornalista molto bravo che si chiama Andrea Magri, vi lascio il link in descrizione e vi invito ad andarla a vedere perché è molto ben costruita e noi come al solito ci rivediamo ad un prossimo video, ora più che mai, sempre Forza SPAL Grazie a tutti